Adesso una data da cerchiare in rosso c'è. Per l'ufficialità dell'interruzione definitiva del campionato di Serie D e della conseguente promozione del Palermo in Serie C, ancora qualche giorno di attesa. Il Consiglio federale della FIGC, l'organo preposto a ratificare ogni decisione in merito alle competizioni calcistiche italiane, si riunirà mercoledì 20 maggio. In quella sede si metterà il punto definitivo alla stagione 2019-2020 per quanto riguarda i campionati dilettantistici. Se per la Serie A si può parlare di probabile ripresa, la Lega ha fissato la data del 13 giugno, per le serie inferiori il protocollo anticovid approvato dal Comitato Tecnico Scientifico non è applicabile, soprattutto dal punto di vista dei costi esorbitanti per le società dilettantistiche. La decisione sarà presa anche grazie al decreto 211 Quater, sul quale sta lavorando il Governo, che accorcerà drasticamente modalità e tempi degli iter giudiziari. Questo scivolo non solo eviterà la Federcalcio un'estate all'insegna di appelli e ricorsi, ma lascia anche ampi poteri per quanto riguarda l'annullamento, prosecuzione o termine dei campionati. In FGC si ragiona ormai da qualche settimana alla rivoluzione del format, con particolare attenzione alla Serie C. La terza serie ha avanzato le proprie proposte alla federazione, quattro promozioni e blocco di retrocessioni e ripescaggi. Se in consiglio dovesse passare questa istanza, si dovrà necessariamente rimodulare la composizione del prossimo campionato di Lega Pro. Per il nero su bianco, dunque, ancora una settimana di attesa. Poi i tifossi rosa-nero potranno finalmente festeggiare.